sento che batterò il negozio aspetta mi tocco perché ce la posso fare lo dicono tutti lo dice il pronostico per ora lo dicono anche i gatti vediamo dopo dal trentesimo le cascine cosa mi dirà eh lì si paga eh Paolo lì devi stare attento perché lì si paga eh adesso sono un po' troppo un po' troppo alta mi misco un po' il ritmo ragazzi grande andiamo l'area dov'è?